Il mio nome è Ian, sono uno studente in medicina alla Humanitas University. Ho scelto di venire qui a studiare in una medical school con un ospedale all'avanguardia nella clinica e perché qui c'è anche un centro di ricerca, così posso studiare e imparare con l'aiuto di medici e ricercatori. Qui sta per nascere il nuovo campus universitario, proprio qui e io già me lo immagino. Immagino grandi spazi, tanti medici e ricercatori da tutto il mondo, tanti infermieri e naturalmente studenti. Immagino un luogo moderno immerso nel verde dove vivere e studiare, crescere e imparare. L'ospedale è a due passi, il centro di ricerca addirittura dentro il campus, così gli studenti possono imparare sul campo, vedendo situazioni reali, sia di clinica che di ricerca. Non so ancora se farò il medico o il ricercatore, qui si può vedere, capire, osservando e studiando il lavoro dei ricercatori e in ospedale con i medici tutor partecipare al lavoro vero dei reparti, esperienze importanti sia per chi studia per diventare medico, sia per chi studia per diventare infermiere. Penso al nuovo campus con grandi spazi comuni, immagino una biblioteca sempre aperta e naturalmente quello che ci serve per fare una vita sana. I corsi li vedo come ora, fatti di piccoli gruppi e di rapporti intensi con i professionisti che ci aiutano ad imparare, ma in un contesto nuovo e con nuovi strumenti. Nel nuovo campus c'è un centro di simulazione, qui gli studenti possono fare esperienza in sicurezza in ambito medico e chirurgico, ma anche simulare condizioni di emergenza grazie alla tecnologia di simulazione immersiva. Studiare e vivere nel nuovo campus è un'esperienza formativa incredibile. Avanti Jan, è ora di tornare allo studio. Il campus vero tornerai a vederlo presto.